Vedo, vedo, lo vedo, è lui! La sfera di cristallo non mente mai, è incredibilmente bello, straordinariamente interessante, magnificamente ricco! Solo che, esce con tutte! È vero, il nuovo catalogo CombiPel Autunno-Inverno esce con tutte le riviste e ha tutte le nuove collezioni. Lo trovi in edicola oppure è sempre disponibile nel negozio CombiPel della tua città. CombiPel, 150 negozi di moto. CombiPel Autunno